ciao a tutti oggi prepareremo lo spumone con le pesche il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono pesche tagliate a pezzetti e congelate zucchero semolato e albumi o albumi pastorizzati andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato diamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 teniamo sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo le pesche congelate chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 vediamo un po sul fondo del boccale a questo punto posizioneremo la farfalla aggiungiamo gli albumi chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 4 lo spumone alle pesche è pronto serviamolo subito o conserviamolo in freezer spumone alle pesche grazie e alla prossima ricetta spumone alle pesche